Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e in questo tutorial esamineremo TED-Ed Lesson, uno strumento, un'applicazione web che consente di creare delle video lezioni interattive online. Bene, che cos'è TED? TED è un'associazione, un'organizzazione, un'acronimo, significa tecnologia, entertainment, quindi intrattenimento e design, cioè progettazione, che è il cui scopo, il cui obiettivo è quello di contribuire alla diffusione della conoscenza in ogni ambito, anche in ambito educativo. TED offre, con la sua versione educational, la possibilità ai docenti di costruire delle video lezioni sfruttando video già presenti in rete. Per prima cosa usiamo un motore di ricerca, digitiamo TED-Ed e il primo risultato è quello che ci interessa. Clicchiamo ed ecco la pagina. Dobbiamo registrarci, clicchiamo in alto a destra su Register e qui dobbiamo compilare il solito modulo con il nostro nome, la nostra mail, la nostra password e poi attivare la registrazione cliccando sul link che ci verrà inviato nella mail all'indirizzo che abbiamo segnalato. Io ora procederò facendo il login. Eccomi qua. Come vedete è molto semplice la grafica, basta che io clicchi su Crea una lezione. A questo punto ci sono tre passaggi principali. Il primo devo trovare un video, il secondo lo devo selezionare e il terzo posso aprire l'editor per inserire che cosa. Bene, l'idea di TED-Ed è quella di usare l'immenso archivio di risorse video presenti in rete. Solo su YouTube abbiamo milioni, decine di milioni di video e moltissimi anche in italiano. E ormai su tutti gli argomenti ci sono già lezioni, documentari, video su esperimenti scientifici. Quindi possiamo cercare un video. Chiaramente se io dispongo già di un link, lo inserisco qui facendo copia e incolla. In questo caso io scriverò dualismo, per esempio, onda particella, che non è esattamente il mio campo. Ecco, e scelgo questo video di 5 minuti. Lo seleziono. Sono al punto 2, al passaggio 2. Lo seleziono. A questo punto che l'ho selezionato, l'idea qual è adesso? L'idea è quella di superare i limiti della modalità trasmissiva di apprendimento che si hanno se io mi limito, come dicevo, a fornire ai miei alunni il link di un video e a somministrarglielo in rete, per così dire. Ecco, si tratta del vecchio modello pedagogico che ha la sua validità, per carità, entro determinati limiti, ma che non sfrutta affatto quelle che sono le potenzialità del web. Io voglio invece che i miei studenti questo video non solo lo guardino, ma possano rispondere a delle domande relative a questo video, possano discutere su quello che in questo video viene ad essere spiegato, possano aiutarsi tra di loro, per tutoring, possano ascoltare la mia voce che magari aggiunge dei commenti a quanto il video mostra, e così via. Ecco, TED-Ed mi fornisce questi strumenti molto semplici da utilizzare, molto amichevoli e che quindi possono essere usati da tutti i docenti e anche ovviamente dagli studenti, perché io posso dare agli studenti l'incarico di rendere dei video lezioni interattive. Quindi clicco su lancia l'editor per creare la lezione ed ecco qua, come si vede, è molto semplice l'editor. Qui compare una finestra, qui sulla sinistra il video e qui sulla destra i vari strumenti di cui dispongo. Watch, guarda, pensa, approfondisci, discuti e conclusione. Bene, adesso sono in watch e do le indicazioni, le consegne ai miei studenti, osserva attentamente per esempio il video e poi studia l'argomento per esempio dalle pagine del manuale. Ecco, se lasciamo stare a perdere l'errore, questa è la mia consegna, naturalmente posso scrivere altri 321 caratteri e passo subito a Think, Pensa. In questo caso io propongo allo studente, servendomi di questa maschera, delle domande che gli consentono di riflettere su quanto lui vede. Per esempio posso scegliere una modalità scelta multipla, qui scriverò la domanda, si può fare il bagno delle onde, per esempio, luminose. Naturalmente dovrò anche dare un tempo, poniamo 0020, e poi dovrò aggiungere le risposte, quindi ho creato la domanda, adesso cliccherò qui, aggiungi le risposte. Sì, ma dopo aver digerito, no, perché ci sono gli squali di luce, sì, ma con i braccioli, eccetera, eccetera. Come vedete, scendendo, posso aggiungere altre risposte. Indico quella corretta e osservo l'anteprima. Ecco la mia anteprima, l'alunno potrà rispondere. Salvo. Mi chiede se eliminare o meno questa domanda, io la lascio, e creo, per esempio, un'altra domanda. In questo caso, una domanda risposta aperta. Prima, leggi la ricerca del tempo perduto e calcola quanti fotoni sono necessari per leggerla tutta. E questa è una domanda a risposta aperta, così come l'ho lasciata. Salvo anche questa. Bene, ho concluso le mie domande. Vedete, posso spostarmi dall'una all'altra, posso aggiungerne una ulteriormente. In questo caso, posso anche vedere l'anteprima. Posso adesso proporre argomenti e problemi presenti nel video in modo che gli studenti possano approfondire questi aspetti. Mi ricordo su approfondimenti. Io ho già scritto qualcosa per non perdere tempo. Rifletti sui seguenti aspetti, quali teorie sono presentate nel video, ti piacciono più i fotoni maschi o le onde femmine, eccetera, eccetera. Posso formatare, per esempio, posso mettere questo in grassetto, posso questo in corsivo, posso aggiungere un'immagine, e così via. Posso anche fornire link, per esempio, leggi questo articolo, dualismo onde parlo di celle su Wikipedia, e glielo linko, qui seleziono, clicco sul link, sul pulsante che indica il link, inserisci il link, incollo qui il link che mi sono procurato precedentemente, lascio questo titolo, inserisci, ecco, adesso è diventato un link. Posso scrivere quanto voglio, e anche questo aspetto è concluso. Posso sempre controllare con preview, anteprima, adesso lo lasceremo perdere per far prima. Bene, posso adesso proporre degli argomenti di discussione, cioè posso costruire attorno a questo video anche una sorta di forum, un gruppo di discussione in cui si discuteranno vari temi, come in un forum, ci saranno diverse discussioni a cui si potrà intervenire per dibattere i temi del video, per fare domande perché non si è capito un argomento, e così via. Bene, come si può fare? è abbastanza semplice in inglese, ma si capisce, aggiungi new, nuove discussion, discussioni, quindi clicco qui, do un titolo alla discussione, che può essere il più vario, per esempio, sapevate che, e qui spiego la discussione, che ha per primo teorizzato la prima natura corpuscolare, sto scrivendo malissimo della luce, della luce, adesso non mi ricordo se era o Huygens o Newton, ma insomma non fa niente, a questo punto aggiungo la discussione, poi posso aggiungere un'altra discussione cliccando sul pulsante rosso, è abbastanza semplice, come si vede, posso scrivere cosa succederebbe se un fotone incontra un'onda e litigano, cioè posso suggerire argomenti di discussione, naturalmente un alunno potrebbe invece chiedermi non ho capito cosa significa questo e quest'altro, e altri alunni, io stesso potrei rispondere, adesso noi aggiungiamo queste due discussioni, Sì, me lo aggiungo, bene, e finalmente concludiamo con una sorta di morale della favola, cioè la conclusione che può riassumere il succo del video, rispetto per esempio al programma che si stava trattando, o collegare quanto è stato detto nel video con altri argomenti che sono stati trattati, noi chiaramente non faremo niente di tutto, dicevo di tutto questo, mi limiterò a scrivere qualche sciocchezza, che di onda ferisce, di articella ferisce, e abbiamo concluso la nostra lezione, adesso non ci resterà che pubblicarla, publish, e vediamo cosa succede una volta che pubblico, ecco qua, ho pubblicato la mia lezione, e mi vengono forniti una serie di pulsanti che mi permettono di condividerla nei principali social network, se non voglio condividerla perché mi interessa, per esempio, utilizzarla solo con i miei studenti, copierò questo link, cliccando copy to clip, cioè copia negli appunti, ecco, l'ho copiata, oppure posso qui inserire l'elenco mail dei miei alunni, io ho scelto di copiarla, e poi per esempio, io passerò loro questo link, non so, su add modo, per esempio, in modo che tutti loro possano rispondere alle domande, visualizzare la lezione, e così via. Bene, ho concluso, abbiamo visto che la nostra lezione, adesso, è inserita in your lessons, le tue lezioni, qui ci saranno le discussioni, qui le notifiche, che è delle attività, prendono gli studenti, settings, sono i nostri parametri, le nostre preferenze, la nostra identità, e così via. Bene, da your lesson, io posso tornare sul pulsante condividi, cioè, chiedo scusa, cliccare sul pulsante condividi, e tornare a questa schermata molto importante, da cui posso per esempio recuperare il link, editare di nuovo la lezione, cancellarla, o posso review student work, cioè posso osservare il lavoro eseguito dagli studenti. Infatti, grazie a ConteDead, posso anche, che so, esaminare a quante domande hanno risposto gli studenti, a quante non hanno ancora risposto, a quante hanno risposto al primo tentativo, quanti tentativi sono stati fatti da ciascuno studente, e posso ovviamente vedere le discussioni, le domande che sono state poste nel forum di ciascun video, e così via, quindi ho anche strumenti che posso usare in modo molto semplice, e, vede qui mi dice, nessuno studente sta ancora lavorato su questa lezione, adesso simulerò di essere uno studente. Bene, adesso ho finto di essere uno studente, questo è il link che ho copiato come studente, mi sono dovuto loggare, perché, anzi, non mi sono ancora loggato, adesso io posso guardare il video, però non posso rispondere alle domande, o meglio, non può registrare le mie domande, devo loggarmi, ho creato un finto profilo di studente, ecco qua, adesso sono loggato, ho anche ingrandito per vedere meglio, posso guardare il video, cliccando qui, posso vedere le domande che mi sono state proposte dal docente, qui risponderò, la risposta, gli approfondimenti, quali teori sono presente nel video, le discussioni, guardo la discussione, e rispondo, ripeto la procedura, queste sono le due discussioni che ho creato, vedete compare, view discussion, discussion book, guardo la discussione, e rispondo, chi per prima ha operizzato, e scrivo, chi mede, pittagorico, e rispondo, mentre il video continua a scorrere, questo riquadro sulla destra, adesso lo interrompiamo, che infastidisce, ecco qua, ho fatto il mio lavoro di bravo studente, adesso esco, e vediamo cosa è successo dal lato insegnante, entro con la mia password, insegnante, e posso vedere l'attività svolta dai miei alunni, vedete che mi sono arrivate dal menu, lo posso vedere, mi sono arrivate tre notifiche, vado a vedere, e qui mi si segnala l'attività svolta dall'alunno chiamato Jan Farco, come abbiamo visto, una discussione, è intervenuto in una discussione, ha guardato la lezione, e ha risposto a delle domande, vediamo un po', a quali domande ha risposto, e qui posso vedere le domande a cui ha risposto, qui non ha risposto niente, e qui ha risposto alla domanda A, nel menu qui sulla sinistra, mi vengono anche indicate le varie attività, tutte le notifiche che ho ricevuto, posso però anche andare sul mio account, Your Lesson, ecco vedete, questa è la mia unica lezione, e posso cliccare su esamina il lavoro dello studente, ecco qui, le statistiche della lezione, abbiamo avuto uno studente, abbiamo la data di creazione della lezione, e vediamo che questo studente ha completato una risposta a scelta multipla, ha risposto correttamente al primo tentativo, first attempt, e in tutto, ovviamente, un tentativo solo, non ha completato l'altra domanda, mentre è intervenuto in una discussione, posso anche osservare le risposte, adesso torno nella mia dashboard, diciamo, dove posso osservare le lezioni, bene, questo era TED-Ed, posso naturalmente ancora cancellare, o posso creare un'altra lezione, basta cliccare qui, ho finito, vi saluto, e spero che questa applicazione possa tornarvi utile, ho dimenticato di dirlo, ma pensavo fosse sottinteso, è completamente gratuita, arrivederci, e buone lezioni a tutti.